You è la nuova frontiera positiva della lotta all'HIV e all'AIDS. Lo possiamo tradurre in termini concreti? Innanzitutto a mio parere è un qualcosa di rivoluzionario perché le evidenze scientifiche hanno in maniera inequivocabile dimostrato dopo anni che si accumulavano queste evidenze che la persona HIV positiva che prende la terapia correttamente e che quindi non ha più il virus che si moltiplica nel sangue non è contagiosa nei propri rapporti sessuali con i propri partner sessuali. Il che vuol dire che la persona HIV positiva non si sente più lo stigma di oddio sto attento perché nel rapporto sessuale con una persona che viene negativa rischio di infettarlo, il preservativo, le attenzioni eccetera eccetera. È una persona che è una persona normale, uguale a tutti gli altri, che può avere i suoi rapporti sessuali senza avere questa paura di infettare e quindi questo è un messaggio anche per tutte le persone che non sanno se sono sere positive o no di fare il test perché fare il test non vuol dire che si entri in un circolo vizioso e sentirsi responsabili di contagiare gli altri. Anzi fare il test vuol dire prevenire per la propria salute ma prevenire anche la salute dei propri partner sessuali perché appunto prendendo la terapia non gli si infetta più quindi questo è direi fondamentale.